Ho passato una vita a combattere Cosa Nostra. 200 misili, 28 ergaspoli! Questo signore è libero! O c'è qualcuno? Eppure c'è qualcuno che l'aiuta. Lei è una bella testa di cazzo. Faccio il possibile, signor ministro. Tu non hai idea del casino che hai combinato? Usano tutti. Un giudice è Cosa Nostra. Traditore dei suoi ideali. Magistrato eroe. Magistrato mafioso. E qualcuno ci crede a questa minchiata? Ti giuro che ti faccio assolvere. Colpevole! Siccome non potevo più essere un eroe, ho deciso di diventare quello in cui mi avevano trasformato. Il cattivo. Mi servono uomini e armi. Guarda! Mi sa tanto che il paradiso non fa per noi. Un uomo disperato è capace di tutto. Si sciße la riunica,